Aurelio Biassoni, capogruppo di minoranza consigliare a Son Gavazzo, voi non siete d'accordo con il progetto di ampliamento del cimitero? Ma è un progetto che ci ha lasciato un po' stupiti, sono già stati spesi dall'amministrazione comunale 30 mila euro per l'acquisto del nuovo terreno, altri soldi circa 4 mila euro, quasi 4 mila euro per la progettazione di questo ampliamento cimiteriale affidata all'architetto Simonetti. In realtà non ne comprendiamo le ragioni, non ne comprendiamo per un motivo molto semplice, con il progetto già in essere di bonifica della parete con 45 loculi disponibili, quella a nord per intenderci entrando dal cimitero, quella guardando la cappella sulla destra, si libereranno entro pochi giorni 45 nuovi loculi. A questi vanno aggiunti 5-6 posti a terra, altri 27 posti nelle tombe. Quindi c'è una disponibilità di posti nel cimitero una volta completata la bonifica dei loculi nella parete appunto a nord, tale da giustificare comunque un pavisogno per i prossimi 15-20 anni, alla luce anche dell'incidenza e della media dei decessi degli ultimi 5-6 anni verificati a Son Gavazzo. Detto ciò, qual è il vostro commento in merito? Ma la nostra specifica richiesta il Vice Sindaco ci ha risposto spiegando che più che di ampliamento si tratterebbe di necessità di recuperare nuovi terreni, nuovo spazio per favorire la mineralizzazione dei corpi. Sua intenzione, l'intenzione di questa amministrazione quando ci ha dato capire, sembrerebbe infatti essere quella di estumulare tutti i corpi già scaduti da 30 anni. È chiaro che a questo punto si arriverebbe a una quarantina di corpi per completare il processo di mineralizzazione dei quali c'è ovviamente necessità di nuovo terreno. Riteniamo però che sia una scelta, questa, ad ulteriore ragione, non condivisibile. Non condivisibile perché è vero che le regole dicono che dopo 30 anni uno perde il diritto ad avere posto il proprio loculo al cimitero, però è altrettanto vero che le regole si applicano solitamente col buon senso. Nel buon senso si dice che se non c'è una necessità assoluta, chi ha perso il diritto dopo i 30 anni ad avere quel posto lo può comunque mantenere finché non si rende necessario estumulare. Questo ci pare abbastanza evidente e anche abbastanza condivisibile. Semmai se dovranno essere spesi dei soldi per il cimitero, a questo punto invece di spendere 30 mila euro per l'acquisto di nuovo terreno, altri soldi per la prosentazione e altri ancora che poi dovranno essere aggiunti per le opere, ci sembra che potevano essere semmai spesi dei soldi in modo più utile per la sistemazione dei dialetti. E semmai ultima cosa che lanciamo come idea e come proposta è anche quella di realizzare dei piccoli loculi per le une cinerarie dove ospitare appunto le ceneri dei propri cari, tenendo conto che appena entrati sulla sinistra del cimitero questi stanno cominciando a esaurirsi.